molto, molto sott'occhio il contatto con Vido che per l'arbitro non è falloso Fagioli, l'inserimento di Valeri, cerca il cross in scivolata da Nilo gran lettura del centrale brasiliano che poi con le cattive va a recuperare il pallone se... Cobalt, sale la pressione, vedete Bartolomei in quanto si alzi per andare a prendere il centrale belga che fa un gran pasticcio Fagioli! Parma 0, Cremonese 1 da difensore centrale e primo da terzino destro e oggi invece a sinistra che per Marescher, Ocoli, Castagnetti, Fagioli duello di Carmine Danilo, vinto dal brasiliano, la mette giù Fagioli Bartolomei, tale Ocoli, Fagioli, ancora il centrale vicentino con origini nigeriane Fagioli apre bene per Valeri è cresciuto, questo curriculum, anche l'esperienza lo va ad accelerare partendo da lontano, prende il centro del campo come sempre, lo dicevo anche prima sempre raddoppiato, spesso triplicato, come in questo caso si appassa Bartolomei che vuole palla, Bianchetti lo ignora e va da Fagioli Ocoli di Carmine, spalla alla porta, Castagnetti Fagioli inizione della Caronesia dietro Fagioli da Carmine Fagioli ma prendersi la palla a barbissima in fase di interdizione Vido Fagioli Valeri Fagioli si muove Vido dentro da Gaetano che si lascia scappare via il pallone Schiattarella però non passa il duello lo vince il Belga la palla cade sul destro di Castagnetti Vido Fagioli Bianchetti Fagioli apre molto bene per Bartolomei gioco pericoloso il Parma riparte con Vasquez si fa rubare il pallone Fagioli al limite Fagioli, lezione personale fermato palla buona per Bartolomei che calcia Fagioli Ocoli Gaetano batte per Fagioli si occupa lui del cross Danilo pulisce l'aria arriva Castagnetti che teme per lui nella quarta stagione la presenza numero 86 Fagioli la mette giù con grande destrezza poi frena mezzo a tre vediamo che si inventa fermato da Samano la tiene in campo Vido lotta e la riprende Fagioli Sermicola il solito Ocoli la mette giù Fagioli e passa su Juric poi capisce che in avanti non ha soluzioni e allora torna dietro tra con Del Prato che va a destra Fagioli Vido Coulibaly passa poi difende palla di fisico anche in maniera rude ma regolare palla per Inglese svetta più in alto Bianchetti Fagioli morbido per Vido che ha un po' di spazio la palla scivola via Juric protegge l'uscita di Danilo lancia in avanti schermato Del Prato schiattarella ancora Del Prato Vasquez verso Mann pallone in avanti intercettato da Castagnetti Vido sulla corsia per Valeri il pallone arretrato verso Gaetano che anticipa Juric palla dietro finta il tiro Fagioli la porta sul mancino il dribbling di Fagioli la palla finisce sul piede di Fagioli che fa a viaggiare sulla destra Sernipo Fagioli ha un po' di campo va a viaggiare Valeri la qualità di Mann e Vasquez l'assist non passa la chiusura di Bianchetti con carne secchi che è andato a fare il libero vecchia maniera Vasquez per Inglese che non la tiene Juric accreditisce Fagioli che resiste Valeri in alto del Prato Fagioli la mette giù ancora con tantissima eleganza Sernipola Fogoli Gaetano con il tacco Bartolomei intercetta Schiattarella che praticamente è diventato un 4-2-4 ma Brunetta fa uno dei due centrocampisti insieme a Juric Vasquez cerca il cross con il tetto Bianchetti Fagioli va via Juric azione personale l'esterno per Castagnetti scivolata lotta con Vasquez che recupera il pallone Brunetta parte a lontano non commette fallo Bianchetti che ricordiamo e la sponda intercetta Fagioli che partita Castagnetti si accentra Fagioli Sernipola Valeri dietro Ciofani Fagioli Castagnetti allontanata non troppo Fagioli Nardi non riesce a tirare la palla schizza via arriva Buffon Fagioli danza ancora una volta sul pallone e poi va via prende il fallo prende la punizione tocco dietro per Valeri Fagioli Zani Macchia Deciso Ocoli Fagioli Valeri